Abbiamo un nuovo problema. Le fonti della CIA dicono che il gruppo terrorista United Freedom ha occupato una miniera di uranio in Chad. Riteniamo che stiano estraendo il minerale per le loro armi di distruzione di massa. Dobbiamo fermare questo flusso di uranio irregolare e liberare la miniera intatta. La tua missione è l'eliminazione di tutti i nemici nella zona e riconquistare la miniera. Il tuo punto di inserimento sarà a 500 metri a sud dell'obiettivo Manhattan. Tutte le squadre convergeranno alla miniera. Non sappiamo da quanto tempo controllano la zona, ma le foto dal satellite indicano che è stato eretto un perimetro difensivo. C'è anche un posto di blocco sulla strada principale. Buona fortuna! A tutti gli elementi King, dobbiamo assicurare la miniera di uranio. King 6, qui Black Widow. Tutte le squadre sono a terra. King 6, qui Black Widow. Bravo, sei compromesso. Procedi con la missione. Ripeto, procedi con la missione. La missione è stata Sì, sì, sì! Alfa 2 è colpito 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 Alfa 2 è colpito